Ma guardi, tutto voglio fare, soprattutto in queste ore, tranne che rialzare polemiche, polemiche interne al PD, le solite polemiche nelle quali sono sempre messo in contraposizione a Renzi, quindi lascio perdere qualunque cosa di questo genere. La questione per me chiave è questa, bisogna che i politici capiscano che di fronte alla fatica, alla difficoltà che le nostre società stanno vivendo, alle paure che le nostre società stanno vivendo, i politici in particolare devono non prendere il fiammifero, accenderlo e buttarlo sulla paglia, che facilmente poi prende fuoco, ma devono fare esattamente l'opposto, cioè devono fare un lavoro che sia un lavoro a partire dai linguaggi, questo è per me il tema principale del libro, usare la parola imparare nel titolo del libro, per me è stato questo, io lo sto facendo portando in giro il libro e discutendo soprattutto con i giovani, per me la questione essenziale è questa, riuscire a far sì che in questa fase così complessa, drammatica delle nostre società, i politici, non è solo i politici, penso i giornalisti, voi avete un ruolo fondamentale, così come gli educatori, gli insegnanti, deve essere una fase nella quale si aiuta non a far esaltare queste paure e renderle ancora più drammatiche, ma si aiuta a partire dal linguaggio, a trovare invece punti comuni. La grande forza, voglio terminare con questa che può sembrare un po' retorica, invece a me piace molto questo riferimento, il grande forza del nostro paese è stato il miracolo economico, dove l'ha fatto e come l'ha fatto il miracolo economico l'Italia, l'ha fatto con il rispetto reciproco tra forze politiche che pensavano a mondi diversi, ma si rispettavano reciprocamente, ognuna sapeva che l'Italia era fatta anche dell'altra, quest'idea che oggi devi distruggere l'avversario è un'idea che io non accetterò mai, il libro l'ho scritto anche per questo, la discussione purtroppo drammatica di queste ore mi conferma sempre di più.